Voglio cogliere questa occasione per ricordare che la sanità è una materia concorrente. Questo lo dico al Presidente di questa Regione, come ai Presidenti di altre Regioni che credono che se il Ministro della Salute fa il suo compito lo fa extra Costituzione. No, il Ministro della Salute fa il suo compito nei solchi della Costituzione, che prevede che il Ministro della Salute debba assicurare ILEA su tutto il territorio nazionale. Quindi è un compito specifico che mi viene attribuito nel momento in cui giuro davanti al Presidente della Repubblica. Quindi tutto quello che io faccio lo faccio assolutamente nel solco della Costituzione e per questa ragione abbiamo fatto un decreto legge che è assolutamente temporaneo. Poi diciamo ai posteri la sentenza su quanti saranno i risultati che riusciremo a raggiungere. Sono sicura però che questi nuovi strumenti in mano ai commissari ci faranno ottenere dei risultati che altrimenti con gli strumenti ordinari non avremmo mai potuto ottenere.